Sky Stream. Il modo più facile per avere Sky nelle tue camere. Solo l'inizio. Facile da installare. Facile da usare. Anche con voice control. Trova filmazione. Migliaia di titoli, anche on demand. Cinema. Tranquilo! Serie TV. E il grande sport. E il più grande spettacolo del mondo. Anche in lingua originale. Dai più valore alle tue camere e migliora il tuo business. Inizia lo spettacolo. È ora! Boom!